E così venite da Londra e intendete vendere la vecchia casa nella palude? Sì. Prima venderete la casa, prima la gente ricomincerà a vivere. Per favore, non andate in quella casa. Lei è tornata. Il buio può giocare dei brutti scherzi anche alla mente più razionale. Sento che lei è là e vuole me. Dovevate andarvene quando ve l'abbiamo detto? Non andate a caccia di fantasmi. Avete detto di avere un figlio. Tornate da lui. Saranno i più deboli a pagare. Non me ne vado. Chi c'è? Lei è sempre là. Luca. Dio. Dio. Grazie.